Cresce la tensione tra i lavoratori della GAM dopo le dimissioni dell'amministratore unico Nicola Baranello. Secondo molti osservatori l'ingegnere avrebbe gettato la spugna perché sarebbe stato di fatto escluso dalle ultime decisioni assunte dall'esecutivo regionale e dal presidente Paolo Frattura. Intanto i lavoratori sempre più angosciati per il loro futuro difendono l'operato dell'ex amministratore e preannunciano eclatanti azioni di protesta. Io penso che l'amministratore Baranello comunque è stata una persona molto seria e ha confermato quello che era dando le dimissioni perché io penso che siamo diventati ormai la barzelletta del Molise. Io mi auguro adesso che il presidente Frattura oltre alle due proposte che ci doveva dire mi auguro che ci spiega anche questo che sta succedendo adesso e questo è un fatto gravissimo che mi auguro non si ripercuota sempre sui lavoratori. Come ha operato l'ingegnere Baranello? Per quello che ha fatto Baranello ci ha lavorato sette mesi su questa l'unica proposta che c'era anche se ne erano arrivate tantissimi di tanti avvoltoi io penso che questa era l'unica proposta seria messa sul tavolo dove il presidente Frattura ci ha dato sempre fretta di iniziare e partire. Poi per tre righe che sono arrivate a tarda serata di qualche avvoltoio, io chiamo avvoltoio perché qui non si può scherzare più sulla pelle dei lavoratori, adesso il presidente ci deve dare le certezze e ci deve fare chiarezza di tutto il percorso dalla prossima settimana. Dunque i sindacati attendono con ansia la firma della Cassa Integrazione Straordinaria e le decisioni che assumerà la giunta regionale per la gestione transitoria della gamma che secondo quando promesso da Paolo Frattura dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana.